Sono io eh... sono io sono io! Ah Mario 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 Mario! E questo pure tu sei tu! No questa non sono io! Mah Mario ma ti sei rinch.. ma non ma- oh oh! Oh! No ragazzi Mario ha fatto la trasmutazione dei corpi! Noooo! Certo! No no no! No ma non hai capito Henry! No Henry non hai capito! Mario ha fatto la trasmutazione dei corpi! Vuoi sapete che ho visto io? Mario si chiude nella piramide e a un certo punto risorge!